Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video Oggi siamo qui per il recap dell'ultima giornata di Premier League Prima di iniziare voglio dire due cose La prima iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like a questo video per supportare questo format La seconda cosa che vi voglio dire è che mancano parecchie squadre Mancano parecchie squadre in questo recap perché il Chelsea ha giocato con il Liverpool in Carabeo Cup questo weekend Quindi ha saltato la partita contro il Tottenham Mancherà il West Ham col Brentford che stanno giocando questa sera Il West Ham stava vincendo 2-1 Non la potrò analizzare perché sto registrando il video mentre sta giocando Quindi di match di squadre che mancano sono parecchie Ma ragazzi succede, succederà sempre che qualche squadra manca Perché vuoi o non vuoi o una gioca dentro la settimana o un'altra c'è una partita in Coppa E quindi non le possiamo analizzare Detto ciò partiamo E io direi di partire proprio con Palace Barney Partita finita 3-0 per la squadra di casa Il Palace stra-domina il Barney Lo distrugge, lo disintegra C'è veramente poco da dire Il Barney di Company è una squadra piena zeppa dei problemi Io mi ricordo quest'estate quando finì il campionato della passata stagione Tanti parlavano di questo Barney di Company Tutti lo elogiavano per il campionato clamoroso che avevano fatto proprio in Championship Io, come dissi anche nella previsione della mia classifica Il Barney era una squadra in quel periodo troppo esaltata Come si fa ogni volta, quando sale una squadra da una lega inferiore Si cerca sempre di saltarla anche quando non la si conosce Perché una squadra del genere con determinati giocatori non può giocare in Premier League In Premier League serve fisicità, serve ritmo e a questa squadra manca proprio questo Perdere 3-0 contro questo Palace qui è un risultato gravissimo Tralasciando il fatto che il Palace aveva tantissimi assenti E gli assenti erano i giocatori più importanti Ducure, Olise, Ese, Gheyi Cioè giocatori importantissimi per la Rosa non hanno disputato l'incontro Più parliamo di un Palace che quest'anno sta facendo piangere in tutti i sensi E ha appena cambiato allenatore Quindi c'erano tutti i presupposti per il Barney per portarsi a casa la partita Invece cosa hanno fatto? Hanno letteralmente subito di tutto Nei 90 minuti non hanno fatto nulla Adesso vi sto lasciando qualche statistica qua e là Ma c'è veramente poco da dire Sono stati surclassati Surclassati Mi aspettavo sinceramente qualcosina di più Adesso direi di passare ad un incontro un po' più interessante Brighton Everton ha finito 1-1 Che dire di questa partita? Il Brighton domina Perché il Brighton ha dominato letteralmente per 90 minuti Come sempre perché il Brighton La squadra allenata a Roberto De Zerbi Tende ad avere sempre il pallino del gioco Tende sempre a schiacciare l'avversario Tende sempre ad avere quello stile lì Dall'altra parte l'Everton è sempre quella squadra lì Quella squadra che si chiude, si arrocca dietro Aspetta il momento giusto per ripartire Ed è quello che è successo Questa è stata la partita Brighton che attacca Everton che si chiude e cerca di ripartire Il problema è che questa partita non si è portata a casa nessuna delle due Il Brighton riesce a pareggiare praticamente alla fine Un 1-1 che sta stretto ad entrambe Perché il Brighton sta cercando quest'anno di alzare la sticella Non dico di andare in Champions League ma di riconfermarsi per l'Europa League Dall'altra parte l'Everton sta cercando di uscire dalla zona retrocessione Quindi questo pareggio non fa bene ad entrambe De Zerbi continua ad avere questi problemi difensivi Perché questo è l'ennesimo gol che subisce questa squadra Questo è un dato importante per i romanisti Perché la squadra di De Zerbi soffre parecchio Le squadre che ripartono e che sanno ripartire Tanto che la Roma affronterà proprio il Brighton di De Zerbi in Europa League Spero vivamente che Daniele De Rossi riesca a capire questo difetto del Brighton E riesca a utilizzarlo a suo favore Giocatori che mi hanno impressionato in questo incontro Non è che ce ne sono stati tantissimi Quello che mi ha impressionato di più è Gross Ma ormai quella è una certezza ragazzi Pascal Gross è un giocatore incredibile Che si porta a casa per me nuovamente l'MVP della partita Dall'altra parte possiamo dire che quello che a me è piaciuto di più È Brett White, difensore centrale che segna pure il gol del vantaggio per l'Everton Giocatore che ho analizzato già su questo canale Che mi fa impazzì Detto ciò comunque per me il pareggio ci può anche stare Perché guardando come gioca l'Everton e guardando come gioca il Brighton In generale era una partita che se voi l'andate a guardare in 90 minuti C'è stava il pareggio, c'è stava pienamente Proseguiamo con Aston Villa-Forest Partita che ho dovuto recuperare perché giocava contemporaneamente al Manchester United Partita spettacolare che finisce 4-2 per la squadra di Emery La cosa divertente è che la squadra di Emery era in vantaggio dei tre gol Poi ha subito due reti in praticamente tre minuti Poi però sono riusciti a chiudere il match definitivamente Concludendo il tutto con il 4-2 Questa è stata una partita parecchio strana perché nei primi minuti della partita Nei primi 20-25 minuti anche di più Aston Villa ha praticamente surclassato il Nottingham Non riusciva il Nottingham ad uscire Non riusciva a creare qualcosa di pericoloso Poi col 3-0 i giocatori si sono tranquillizzati Hanno iniziato a giocare in maniera calma e tranquilla Hanno cercato di recuperare Più che di recuperare Di sprecare meno forze possibili E il Nottingham Forest è uscito È uscito ed è riuscito a fare un secondo tempo Soprattutto molto molto bello Infatti per me la partita si fa bella proprio nel secondo tempo Però l'impresa non riesce Al Nottingham Forest Nuno e Spirito Santo Non riesce l'impresa soprattutto per due centrali Che veramente fanno piangere I due centrali del Nottingham fanno piangere Adesso io dico questo Mercoledì lo United gioca in FK con Nottingham E i due centrali del Nottingham diventano Teacu Silva e Sergio Ramos Ma al momento questa squadra manca proprio dei centrali Nottingham ha dei giocatori incredibili davanti Come Gibbs White, Telanga, Azzon Odoi, Aueni e tanti altri Ma in difesa manca della gente di qualità Ovviamente questa vittoria alla Stonvilla Non dico che cambia le carte in tavola Ma c'è più sicurezza adesso per la zona Champions Perché lo United ha perso col Fulham Loro hanno vinto E quindi praticamente si proiettano Ad una possibile ed incredibile qualificazione Per la prossima Champions League In generale i due giocatori che mi sono piaciuti di più In questo incontro è Gibbs White Ovviamente come sempre E Douglas Luiz Che continua perennemente a segnare Ha delle statistiche incredibili Cioè un mediano che segna veramente una valangata De goal L'unico difetto di sto ragazzo è che è un po' Un po' provocatore Ecco sapete un po' quello che è successo con lo United Un giocatore un po' che tende a provocare ogni volta Però è veramente pazzesco a livello di qualità È incredibile Un giocatore che quando è arrivato alla Stonvilla Nessuno ne parlava Adesso tutti ne parlano Ed è giusto così perché se lo merita Manchester United Fulham Io ragazzi direi di saltarla tranquillamente Perché ho già detto tutto nel mio post partita Direi di passare a Bornemuth Contro il Manchester City Finita 1-0 per il Manchester City Attenzione Attenzione perché il Manchester City in questo match Ha rischiato Ha rischiato perché il Bornemuth Per l'ennesima volta si dimostra una squadra Che contro le Big Fa veramente tanto male Io non so se è perché l'avversario Sottovaluta questa squadra Io non riesco a capire il perché Ma quando giocano contro le Big Questi si trasformano Sembrano veramente il Real Madrid Fanno delle prestazioni incredibili È ovvio che in generale nei 90 minuti Hanno creato poco Hanno attaccato poco Ma perché hanno affrontato il Manchester City Squadra che tende sempre ad avere il pallino del gioco Squadra che tende a schiacciarti in continuazione Quindi era giusto ed è normale Che il Bornemuth non abbia fatto la partita Ma nel suo piccolo Sono riusciti sempre a creare Dei pericoli costanti alla difesa del City Addirittura se andiamo a guardare le statistiche Nel complessivo non è che il City abbia dominato A livello di creazione A livello di possesso Sì ma a livello di occasioni nitide Non è che abbiano creato più del Bornemuth I due giocatori che mi sono piaciuti di più di questo incontro Il primo è Foden Assolutamente O Foden o Bernardo Silva Perché entrambi nell'ultimo periodo Stanno crescendo veramente In maniera incredibile Non sottovalutiamo neanche la prestazione da Kanji Che è stata molto molto bella Dall'altra parte devo dire che Christie è stata una sorpresa Giocatore che a parer mio Contro il City ha fatto la sua sporca partita Si è comportato veramente molto bene Quindi per me si merita l'MVP della sua squadra Dall'altra parte decidete voi Tra Bernardo Silva, Foden e Akanji Passiamo ad un'altra partita Che si conclude con un risultato incredibile 4-1 L'Arsenal vince 4-1 contro il Newcastle E distrugge qualsiasi speranza per il Newcastle Perché se lo United è lontano dalla zona Champions E il Newcastle è anni luce dalla zona Champions League Questa sconfitta sancisce un po' Quello che era il sogno Quello che avevano costruito l'anno scorso Quelli del Newcastle Spartita che non c'è stata Perché non c'è stata partita ragazzi Il Newcastle in 90 minuti Ha fatto solo due tiri in porta Questa vittoria è l'ennesima vittoria Dell'Arsenal di Arteta in questo 2024 Che per ora ha steccato solo la partita col Porto Quindi sta vivendo un momento veramente incredibile Soprattutto in casa Bisogna citare assolutamente la crescita di Guy Alvers In questo 2024 Che sta migliorando sempre di più Io ve lo dissi Meglio numero 9 Che il centrocabista centrale Infatti è stato messo numero 9 in questa partita E ha siglato un gol Bukayo Saga Sempre il solito decisivo Bisogna dire che per quanto la difesa dell'Arsenal Non sia una delle migliori Riesce grazie al gioco di Arteta A contenere l'avversario E soprattutto a smistare bene Perché avere White e Key War Come Madonna si pronuncia come Terzini Non è il migliore delle cose Una cosa però nel lato negativo La voglio di Arteta Che è Raya Raya è un portiere che io non riesco ancora a capire Perché sia titolare L'anno scorso Ramsdale si era comportato bene In Inghilterra addirittura c'era chi Diceva che Ramsdale era il miglior portiere in Premier Quest'anno si è presa questa decisione Arteta Ha preso questa decisione Arteta Di escludere Ramsdale per mettere Raya Per la gestione Per i piedi Siamo tutti d'accordo che il portiere ex Brentford Sia migliore di Ramsdale Ma alla fine dei conti Come abbiamo detto anche sempre per Onana Il portiere deve parare Raya continua perennemente A parer meno non dare certezze tra i pali È un portiere che non ti dà mai sicurezze Per esempio il gol del Porto Se vuole andare a riguardare Non dico che sia colpo al 90% di Raya Ma Raya compromette la partita Per il brutto posizionamento E soprattutto per il mancato intervento Perché praticamente si butta in ritardo Partita che a parer mio Qui dei giocatori che a parer mio Non lo vedo benissimo Dall'altra parte Newcastle è una bomba a mano in questo momento Non si salva nessuno Io l'unico che continua a salvare Gordon Perché è quello che ci provate più Perché è quello che fate più Ma in generale la difesa ragazzi è macchinosissima L'anno scorso il bello del Newcastle Era proprio questo Che ti andava a pressare con tutti gli effettivi Depressava con i centrocampisti Depressava con gli attaccanti Depressava con i centrali Depressava con i dirzi Adesso veramente la difesa sembra un robot Cioè proprio sono meccanici Se muovono male In maniera lenta Macchinosa Brutti proprio da vedere Sono stati surclassati Dalla velocità De quelli davanti dell'Arsenal Martinelli Gaiavers E Bugaioza Che infatti tutti hanno superato La media del 7 Come valutazione In generale Hanno meritato loro L'Arsenal Continua a rispondere a tutti Per il discorso Premier Questo per me è l'anno Dove l'Arsenal potrebbe seriamente Ambire a vincerla L'anno scorso ve lo dissi Che per me non la vinceva Perché mancava qualcosa Quest'anno Non manca niente Manca il numero 9 Ma allo stesso tempo C'è una mentalità diversa L'anno scorso I giocatori Arteta Ha provato E hanno provato Il sapore amaro Della sconfitta Di aver perso Un campionato Alla portata Quest'anno hanno l'esperienza Che li può portare Seriamente a vincerlo Bisogna capire Poi il Liverpool Se si fermerà mai Perché al momento È una macchina da guerra Passiamo avanti Col Wolverham Shelf United È finita 1-0 Col De Sanabria Anche qui c'è poco da dire Cioè è stata una partita Per me Che doveva finire in pareggio In generale Si comportano bene Entrambe le squadre Lo Shelf United C'è da dire Che è una squadra Che per quanto sia neopromossa E per quanto abbia Dei limiti Molto più grossi Del Louis Tuntown Oddio Forse il Louis Tuntown No Però sicuramente Del Barney Si Continua a fare Ottime prestazioni Lo Shelf United È una squadra Che a parer mio Anche col Brydon Ve lo dissi Che se non prendeva rosso L'ex difensore Dell'Everton Nei primi minuti Per me Lo Shelf United Il pezzotto Lo dava Al Brydon De Denzerbi Perché è una squadra ostica Una squadra Che si sa difendi Si sa ripartì Però ovviamente Ha dei limiti Tecnici Ha dei limiti Tattici Ha dei giocatori Che non possono Stare in Premier League E questo poi comporta A questi risultati Una sconfitta Che a parer mio Non ci sta Ve l'ho detto Perché il pareggio Era la cosa migliore Shelf United Che con questa sconfitta Rimane Ventesimo A 13 punti Quindi al momento È la peggio squadra In Premier League Capiremo se riuscirà A salvasse Ma Non dico che Matematicamente Si è chiusa Ma siamo lì Ormai lo Shelf United Saluterà Tra un paio di giornate Della Premier League Dispiace Perché Potevano sicuramente Fare qualcosa di più Per le prestazioni Che hanno fatto Durante Alcuni match Ragazzi Il recap Della Premier League Finisce qui Perché come ho detto Tante altre partite Mancano Perché devono giocare Io vi saluto Vi ringrazio per la visione Ci rivediamo direttamente Domani Per il post partitello United Ciao a tutti